E' stata inaugurata nel mese di giugno a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, la nuova sede della Legnopan, un'azienda che non ha certo bisogno di presentazioni, un leader nella distribuzione di materiali per il mobile e l'arredamento. La famiglia Mattei al completo ha salutato gli ospiti intervenuti. Significativo l'intervento di apertura di Loris Mattei. Quello che festeggiamo oggi è una tabba importante di un cammino iniziato nel 1979, un percorso lungo 32 anni, nato da una combinazione di passione per il legno e voglia di innovare. Questo è stato il nostro pensiero quando abbiamo scelto di creare Legnopan. La nostra passione per il legno e i semi lavorati nasce da lontano. La logistica è uno dei punti di forza di questa nuova sede, come sottolinea in questa breve intervista Alessandro Mattei. Questa logistica che vediamo ad oggi nel mio po' movimento ha più di 10.000 articoli anni. Riesce a consegnare materiale presente al magazzino in meno di produttore in tutta Italia, Austria, Svizzera, Slovenia, compreso che sono i mercati esteri a noi più vicini. Grazie. Grazie.